E' molto interessante, è molto bello, è un bel tratto in vedo soprattutto per i bambini, da noi sono venuti, sia da noi che sono venuti, i bambini si sono venuti, sì sì, tanto, è un ultimo spettacolo, sono qua del naso, sono qua del naso, sono entrato alla fine e sono qui, 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 sono l'altro, ho debuffato qualcosa, no in verità siamo andati a casa e poi siamo venuti, penso che siamo andati a casa da qualche parte, no in verità ho un girato fuoco per il bambini, sono qui, sono qui, sono qui, si sono andata a casa, è un teatro, è un'altra si sta divertendo questa sera cosa hai visto? che io vorrei davvero un sito divertito volete tornare a Natura si da dove venite? alla io la ho io la ho io la ho io la ho ok si sono in protezione la telecamera allora grazie